Con delega viabilità, patrimonio, servizi demografici, partecipazione e vigili urbani si è insediato nella giunta comunale di Città di Castello il nuovo assessore Michela Botteghi. 40 anni avvocato dopo le dimissioni dell'ormai ex assessore Monica Bartolini ad essa sarà dato mandato speciale su Trestina. È sicuramente una cosa che un po' mi spaventa perché quando ti prendono come punto di riferimento è anche rischioso. Ti senti caricata di qualcosa di grande, però è anche vero che io amo il mio territorio, particolarmente la mia zona. Sono stata sempre molto attiva anche sul sociale, quindi spero di essere utile per quello che è necessario. Il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, in merito alla nuova geografia della giunta Tifernate e alla mancanza del numero legale nell'ultima seduta del Consiglio Comunale è intervenuto affermando che quello che è accaduto appartiene al trasformismo italiano. Io non sono abituato a porgere l'altra guancia mai, mai nella mia vita, non l'ho mai fatto. Io non amo la rissa per primo, però se poi mi si trascinano mi so difendere. Vengo da San Giacomo, quindi so bene che nella vita bisogna anche combattere. Ovviamente oggi non possiamo permetterci l'uso nessuno di interrompere la legislatura a qualche mese dalla fine e per tanti motivi a cominciare ovviamente l'emergenza Covid. I chiarimenti politici avverranno in campagna elettorale.